cosa come dove e quando può sembrare un indovinello ma in realtà parlando di rifiuti urbani è una sfilza di domande alle quali tutti più o meno abbiamo cercato di dare risposta non è cosa insolita da quando è partita la raccolta differenziata che bucce di patate o avanzi del pollo arrosto a parte con un rifiuto od un oggetto di cui dobbiamo disfarcene tra le mani che ce lo giriamo e rigiriamo e iniziamo a pensare e adesso questo dove va dove lo porto posso sbaltirlo in zona i più diligenti ed ecologisti e virtuosi cittadini hanno preso il telefono in mano e si sono informati a dovere da persone coscienziose alcuni invece se ne sono disfatti alla meno peggio più peggio che meno magari buttandolo per strada o nei fossi accampando mille scuse ebbene ora per questo ma anche per poter interagire ancora meglio con l'utenza ed offrire un servizio al passo coi tempi che l'aset ha messo a punto un'applicazione di nome junker scaricabile sui telefonini di ultima generazione quindi consultabile in tempo reale che fa un sacco di cose belle basta fotografare l'oggetto o scannerizzare il codice a barre o digitare di che cosa si tratta che parte la ricerca e in men che non si dica sappiamo esattamente cosa farcene di quel rifiuto abbiamo scaricato su quest'app tutti i dati del comune di fano questo servizio verrà presentato anche gli altri comuni stiamo già predisponendo il servizio su cartoceto e poi tutti gli altri comuni soci praticamente di aset cosa fa quest'app quest'app non fa altro che scansionare leggere il codice a barre di un prodotto e dirci come poterla conferire quindi scansionandola sia una serie di immagini che ti dicono i punti dove puoi conferire quindi sia le modalità che i luoghi in cui conferire in più c'è una ricerca che si può fare dei prodotti perché questa è una banca dati che ha un milione e mezzo di codice a barre e più di mille prodotti principali più i vari sottoprodotti per i quali si può fare una ricerca oggetto per oggetto e capire come conferire regolarmente perché ci siamo accorti un po' che pur essendoci la volontà di conferire molte volte causa anche la complessità dell'argomento la complessità dei prodotti alcune volte le persone non sanno effettivamente come come agire e come conferire regolarmente questi prodotti poi ci interessa molto il fatto ad esempio anche del della comunicazione perché una modalità di portare avanti delle comunicazioni zonari perché scaricando questa app sia i geolocalizzati chiaramente l'app è gratuita scaricabile sia su ios che su android e ci permette anche di focalizzare determinate comunicazioni su determinate aree tipo interruzione di servizio oppure spostamenti di orari quant'altro e in più c'è anche un sistema che ci avvisa che quel giorno ad esempio avverrà la raccolta dell'umido e quindi ci preannuncio due ore prima di mettere fuori il prodotto in modo da avere un conferimento anche per chi è sbadato e mi ci metto anch'io è un servizio che è estremamente interessante sul passato sul passato l'imido Grazie.